allora eccoci ragazzi siamo di nuovo a pescare abbiamo provato praticamente fino adesso che è tardo pomeriggio la stamattina abbiamo provato a shore e non abbiamo avuto nessun nessun risultato nemmeno mezzo mezza tocca niente di niente adesso proviamo un po' lo spinning medio magari due lanci anche col jig vediamo se gira qualche barra vicino agli allevamenti di orate sto provando a galla il vento è un pochino fastidioso quasi quasi sono tentato di mettere magari un jack ma anche un gighino non sarebbe male come via non è un pochino questo è 80 o 60? 60 60 e con un casto come questo riuscite un buon 20-25 è normale perché dovrebbe essere nelle zone profonde un po' di più Sì 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 È troppo lungo? No, non è troppo lungo Ma cosa succede? Ma... magari un giorno sarà più rilassato Sì Sì Un altro stupido Sì Con un ritrovato tecnico Sì Sì È buono È buono Sì È qualcosa Un altro Sì, sì, sì Guardate Oooo Oooo We could make a fucking good video If I brought with me Ehm Granite vetro pro Yeah Small one? Yes Oh, one assist eh Sì 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Extremamente lentamente. Un po' più meglio. Un po' più meglio. Si, si, si. Molto bene. Si. Si. Espere un minuto. Deep Walker. 39 grammi. Si. They love strong colors, eh? Si. 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 The fish farm is also the... How to say... A sign... Of what fish are doing. Yes. I mean... You allow it to go down completely. Yeah. The 39. Oh 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 oh. Very close. I don't know if it's a barra. No, probably it's a mackerel, but it's strong, eh? Maybe it's from the back. Spaghetti mackerel. Take it out it will leave. No, no, it won't. Allora, voglio di nuovo provare qualche lancio con un metal. In questo caso utilizzo un... Metal da 60 grammi. Un needle jig. Armato solo con un assist in testa. Vediamo. Awe. Arghh. Grazie a tutti oppa probabilmente magari un mackerel sì, magari un mackerel con questo tipo di mackerel è impossibile che non ci sono grandi fici e sul singolo assist molto prezise il mackerel è molto attivo 80 grammi il proto, il nuovo mackerel il mackerel, ho ottenuto due stagioni in un po' come boom, boom, boom molto, molto semplice il mackerel sembra che amo il mackerel non so much non so much non so much Sì 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 e molto forte, però BOOM! Ecco, eh? C'è probabilmente una linea di barra, che sono probabilmente un pochino e che restano non molto vicino, ma profondamente. Sì! News Cars, eh? News Cars! Sì! Sì, 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 sì Ok, questo e andiamo anche perché per il gopro senza luce non è più di 10 minuti come potete vedere dove andate andate le rete davanti piazzano ovunque vabbè tanto noi abbiamo finito ce ne andiamo che la giornata è stata già abbastanza pesante ciao ragazzi yes bro